ciao benvenuta a questo video avrà valore dal momento in cui tu lo vedrai non chiedo tempi alle carte vado semplicemente a chiedere loro che cosa che cosa vedono per te con un occhio particolare alla vita affettiva che non è detto necessariamente che si rivolga un compagno una compagna semplicemente nei rapporti in genere vediamo per la vergine ai 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 allora qui vediamo per la vergine allora qui ci potrebbe essere o essere stata una persona qui addirittura mi parlano di una relazione a senso onico una persona narcisista o comunque una persona proprio come posso dire troppo innamorata di se stessa per amare per dare agli altri qui fanno vedere un colpo alla schiena qui proprio un tradimento una un coltello alla schiena quindi qui vergine potresti essere stata tradita da qualcuno fanno vedere una separazione che può essere ripeto una qualsiasi persona che ti ha tradito che ha deluso la sua fiducia e la sua e le tue aspettative qui le carte sono sono chiarissime persona e ama troppo se stessa per amare gli altri fatto sta che qui c'è un tradimento un tradimento ma anche una competizione c'è un qualcuno di molto furbo maligno maligno che potrebbe che potrebbe lavorare aver lavorato dietro le quinte contro di sé quindi fai attenzione vergine apri gli occhi vergine però fanno vedere pure qui c'è la liberazione da un rapporto tossico mi dicono le carte quindi qui è vero che c'è stato un accoltellamento ci sarà un accoltellamento alla schiena ok un tradimento una relazione ci lascia un po così qui c'è proprio la ferita al cuore però è anche vero che fanno vedere poi un cuore che reagisce un cuore che guarisce ok quindi qui ne usciamo assolutamente vincitori allora un lavoro ben condotto fammi vedere un po che dicono per la vergine il corpo e la tua casa prenditene cura qui attenzione ai nemici nascosti guardati le spalle sicuramente c'è massima intesa sentimentale e fisica vedi guarda qualcuno ti sbarra la strada ed effettivamente le carte ce l'hanno ce l'hanno già anticipato comunque qui ci si libera e lei quindi qui hai veramente una rivale qui hai una rivale in amore perché di questo stiamo chiedendo o comunque nei rapporti in genere quindi le carte ti invitano alla riflessione quindi rifletti molto molto bene magari prima di parlare di esporti in un qualche in un qualche modo stai attento a come ti muovi a quello che dici qui c'è rivalità c'è qualcuno che non aspetta altro di accoltellarti alla schiena insomma di prenderti alla sprovvista quanto meno qui c'è anche il serpente quindi fanno vedere una persona che non ti affronta davanti e sennò sarebbe facile difendersi ok una persona maligna maliziosa che trama trama dietro le quinte quindi fidati giusto vedi guarda il 4 di denari vedi come si stringe proprio fa le braccia questi denari questa questa cosa quindi qui tieniti stritto ciò che hai asso di bastoni sicuramente la vergine il 6 di bastoni gli amanti a quindi sono uscite due insieme il 2 di spade e il re di denari qui ci potrebbe essere un discorso anche proprio di gelosia e qui mi verrebbe da dire a ragione perché qui mi parlano di separazione di abbandono di qualcuno che ti ferisce alla schiena che ti accoltella ti fognala alla schiena e il serpente quindi qui c'è qualcuno che non aspetta altro che tu faccia un passo falso fai attenzione io qui sto parlando di rapporti anche se effettivamente qui vedo pure il lavoro qui vedo pure il lavoro quindi quello che ti sto dicendo magari potrebbe potrebbe pure essere un rivale sul lavoro un rivale sul lavoro o comunque ci può essere appunto qualcuno sul luogo di lavoro con cui diciamo non c'è tutto quest'amore tutta sta simpatia quindi a maggior ragione guardati le spalle come ti stanno dicendo le carte ma qui guarda fanno vedere pure anche un'altra cosa qui c'è un qualcosa che va sistemato c'è un qualcosa che va sistemato quindi dobbiamo intervenire e fare un qualcosa d'accordo con quest'altra persona qui fanno vedere il personaggio maschile re di denari e qua mi fanno vedere la lei il personaggio femminile quindi qui la coppia ci sta la coppia ci sta ma qui c'è una persona appunto come ti stavo dicendo con cui c'è grande feeling sinceramente o almeno c'era grande feeling ecco cosa vedo qui siccome queste carte mi fanno vedere l'abbandono la chiusura la fine di un qualche cosa fanno vedere poi un cuore però che si riprende che si riprende che guarisce diciamo e i tarocchi mi parlano di un qualcosa di nuovo io qui vedo anche una vergine che dopo aver chiuso un rapporto magari difficile o aver chiuso le porte del proprio cuore per questo abbandono brutto cattivo che ha subito la vergine come dire basta basta se i rapporti sono questi non ne voglio più sapere ma qui c'è una vergine che guarisce sta guarendo guarirà da questo dolore ed in effetti vi fanno vedere un qualcosa di nuovo è una nuova passami il termine una nuova amicizia e nasce cioè qui ci sono gli amanti qui c'è la coppia e fanno vedere anche questa questa figura vediamo la coppia e fanno vedere anche questa cosa Qui c'è una vergine molto alle prese con il lavoro, come se ha accantonato l'amore visto questo tradimento, questo abbandono, questo rapporto tossico che ha vissuto, questo tradimento proprio, che sta vivendo in modo molto negativo la vergine. Qui mi ricontinuano a parlare di lavoro, nonostante io abbia chiesto di rapporti affettivi, come se la vergine con queste carte, qui c'è un'ascia, un coltello, un serpente, qui ci sono andati giuppesi con te, come dire, anche basta, mi butto sul lavoro, va bene? Anche se, devo dire la verità, questo rapporto tossico che hai vissuto, questo abbandono, questo tradimento, diciamo, eccetera, come ti ho detto può essere benissimo un rapporto lavorativo che tu hai vissuto, che stai vivendo in questa maniera. Non è detto si parli di un rapporto d'amore uomo donna, insomma, so se mi spiego, ok? Ci sta anche quello. Vediamo. Per la vergine Vedi? Il 2 di coppa e l'8 di denari, quindi una vergine molto alle presse con il lavoro, con il guadagnare soldi. E questo è l'amore della vergine adesso, ma vediamo un po'. Per la vergine, no, via, troppe carte, via, non mi può venire un mazzo intero. Una carta, ragazze, una vergine, 2. Sono ribelli anche le mie arti. Vedi? Guarda, il 7 di coppa e il 9 di spade. Qui, qui come dire, ora, lo so che un po', non voglio dire non credo più all'amore, però c'è il desiderio di singolitudine. Qui la vergine se ne vuol stare per i fattacci propri. Stoppe. Eh, però non va bene, vergine, fammi vedere. Perché qui un'amicizia, una conoscenza, una persona con cui ci potremmo trovare bene, qui c'è, capito? Però qui mi danno proprio, come dire, questo dubbio, come dire, sì, da una parte mi piacerebbe, no, da una parte mi piacerebbe, perché, insomma, amare, era bello, mi faceva stare bene, c'avevo sto bene. Però non ci si fida più, vedi? Non ci si fida più. Segno zodiacale, vergine. Segno zodiacale, vergine. Vediamo. Il re di spade con l'imperatrice. E nel taglio, cosa c'era sotto? Vedi, il cinque di bastoni. Allora, qui sicuramente il business, il lavoro va molto bene e continuerà ad andare molto bene alla vergine. Ti vedo molto creativa, anche molto rigorosa. Come dire, se mi figlio un impegno lo devo portare avanti, quindi molto affidabile. Ma questo è già, voglio dire, nella natura stessa della vergine, va bene? Fanno vedere questo. Però questa è anche una coppia. Questa è anche una coppia, vergine. Quindi io credo che qui è vero che c'è stata questa separazione, questa chiesura dolorosa, questo tradimento, questo coltello nella schiena che ti hanno dato, però qui c'è una coppia. Quindi qui veramente ci potrebbe essere per te, vergine, una nuova, una nuova conoscenza. Perché qui le carte mi parlano di nuovo. Non mi parlano né di ritorni né di osi. Fanno vedere la guarigione della vergine. Quindi, vedi, il quattro di spalle. Quindi qui c'è proprio una vergine in convalescenza, se posso usare questo termine. Quindi una vergine in convalescenza che sta guarendo, sta cercando di guarire. Insomma, qui c'è un coltello, un filato nella schiena, un'ascia con cui si tronca un qualcosa e un serpente velenoso. No, voglio dire io. Quindi ti capisco benissimo. Qui il che tu ha passato tu lo sa solo te. Capito? Però ecco, qui mi fanno vedere anche Healing Heart. Quindi un cuore che sta guarendo. Un cuore che sta guarendo. Quindi qui è il caso che la vergine inizia a pensare di più a se stessa. Deve essere un pochino più egoista, pensare per sé e guarire. Qui la guarigione c'è, piano piano, ma la guarigione c'è. Il lavoro, va bene, l'abbiamo visto in altri video, ma che te lo dico a fare. Il lavoro va benissimo, ti vedo molto concentrata sul tuo lavoro ed in effetti qui va e continuerà ad andare bene. Capito? Però qui vedo anche una figura maschile o femminile. Dipende chi tu sei, te, i tuoi gusti sessuali, per l'amor di Dio. Ecco, che entra. Quindi qui, vergine, guarisci, mettiti tranquilla e poi qui bisogna cominciare a pensare di poter riaprire il nostro cuore. Insomma, ecco. Questo è un po' il succo, il messaggio di queste carte. Vergine, fammi vedere, voglio vedere anche un'altra cosa. Queste sono parole d'amore volume 1, non te le ho fatte vedere. Gli oracoli volume 2, che sono le carte che abbiamo usato. Se ti interessano le mie carte, puoi mandare una mail a lecartedipenelo.com Credi in noi. Io tornerò da te quando sarà il momento giusto, ti dice questa persona. Vediamo. Non puoi capire quanto sia stato difficile lasciarti andare. Quindi qui sembrerebbe stiamo parlando di una persona. Ti prego, non dimenticarmi. Cioè, più chiare di io sì, una persona che torna invece. Magari che voglia tornare come persona assolutamente nuova. Non è detto. Vediamo. Adoro il tuo corpo. Ti sento nella musica. Quindi un qualcuno che ti ricorda con qualche canzone, magari. Con qualche canzone. A volte mi fai imbestialire. Quindi qui è evidente che qualcosa sia successo. Però io qui non credo che mi stiano parlando della stessa persona. Qui si parla di due persone diverse. Queste sono due persone differenti. Io credo che questa sia una cosa più indietro. Più passata. Perché qui poi vedo la nuova amicizia, eccetera, eccetera. Quindi di questa persona mi potrebbero parlare queste carte. Non di questa. Non so se vi spiego. Poi mi fai sapere tu nei commenti. Va bene, Vergine? Un bacione, bocca al lupo e al prossimo video. Ciao, Vergine. Eccoci qua. Vi lascio ai miei... No. 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 Grazie a tutti.